Ritorna la festa di San Roberto Bellarmino ad ottobre e c'è grande entusiasmo qui a Davoli Marina, non Gregorio? Sì, dopo 12 anni penso io, in cui noi celebravamo la festa appunto in estate, ci è sembrato opportuno riportarla ad ottobre. Questa sembra un po' in controtendenza, quello che succede generalmente, perché generalmente le feste si fanno in estate, ma abbiamo avuto dei motivi gravi per poter dire sì, è giusto che noi ritorniamo a ottobre. Ecco, prima di tutto la gente del luogo, qui i fedeli di Davoli Marina, erano in estate molto occupati con i turisti, con, diciamo, nei negozi, quindi non avevano la possibilità di poter partecipare pienamente alla festa. Secondo abbiamo notato che i bambini erano completamente assenti, quindi crescevano senza una conoscenza del santo patrono di San Roberto Bellarmino. Allora già due anni fa noi avevamo spostato la festa religiosa in ottobre alla vecchia data, alla data tradizionale. Abbiamo visto che la gente, soprattutto i ragazzi, partecipavano in gran numero. e questo allora ci ha un po', diciamo, motivati a dire sì, certo, forse non ci saranno le folle dell'estate, però la festa è soprattutto per i locali, no? In modo che aumenti un po' quello che è il senso di comunità in un paese. E allora, anche se, diciamo, forse ci sarà, non ci sarà la folla dell'estate, tuttavia, ecco, certamente è stata una decisione giusta e, come lei ha detto prima, anche molto condivisa, perché è l'ultima festa del confrensorio, prima che poi inizia, diciamo, il novembre, che rappresenta un mese vuoto di festa e inizia poi la bella tesa del Natale. Un ricco programma, comunque, sia civile che religioso, Don Gregorio. Avete pensato a tutti, bambini e più anziani? Eh sì, perché la prima cosa che abbiamo detto dobbiamo rinnovare il comitato e quindi io ho fatto un invito, ho partecipato a tutti, quindi si sono mossi giovani e anziani e si è composto un comitato di 40 persone. I giovani hanno portato tanto entusiasmo, entusiasmo che è stato poi condiviso anche dagli altri e soprattutto ho notato che c'è stato anche un gran numero di donne che si sono messe nel comitato e hanno lavorato tantissimo appunto per poter offrire un bel programma in modo che la popolazione sia anche attratta da tutto quello che in tante serate di preparazione il comitato ha preparato. Domenica mattina ci sarà la Santa Messa e a seguire ci sarà la processione per le vie del Paese. Sì, abbiamo la Messa alle ore 10, Messa Solenne e poi c'è la processione per la nostra comunità. Abbiamo optato per questo momento per non interrompere il silenzio e la religiosità di questo momento, neanche perché al pomeriggio ci sono i giochi popolari, ci sono i giochi per i bambini ed sarebbe stato difficile raccogliere nuovamente la popolazione per poter partecipare appunto alla manifestazione religiosa della processione.